Chiusa ieri la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale a Ragusa, si fa il punto sui 7 candidati sindaco. 6 uomini e una sola donna si contenderanno la poltrona di Palazzo dell'Aquila. Invece, per i 24 scranni del Consiglio Comunale, sono in lizza oltre 500 candidati. Un numero di gran lunga superiore rispetto alle passate amministrative. Le liste collegate ai candidati sindaco sono molteplici e ieri alla chiusura non sono mancate polemiche e contestazioni. Per esempio, per una lista denominata Fuori dagli schemi, collegata a Peppe Cassì, una rappresentante della lista Insieme, che appoggia Maurizio Tumino, ha fatto scrivere a verbale La lista è stata consegnata alle 12.04. La controversia sarà oggetto della valutazione della Commissione elettorale, che entro 48 ore validerà tutti i documenti presentati da rappresentanti dei 7 candidati a sindaco della città. Il primo a deposito delle liste è stato Giorgio Massari, sostenuto da Ragusa Prossima, Cantiere Democratico e Ragusa Bene Comune. 5 liste a supporto di Peppe Calabrese, ovvero Partito Democratico, Territorio, Ragusiamo, io resto qui per i centro. Sonia Migliore, sostenuta da un progetto civico con 5 liste. 2.0, laboratorio politico, culturale, chiamala città, cambiamola ora, progresso e futuro, ricostruire Ragusa. Maurizio Tumino potrà contare su Forza Italia, Maurizio Tumino sindaco, Insieme e Ragusa Creativa. Antonio Tringali, finora presidente del Consiglio Comunale, sarà candidato per il Movimento 5 Stelle. Peppe Cassì, sarà sostenuto da 4 liste civiche, Movimento Civiche Bleo, Peppe Cassì Sindaco, Fratelli d'Italia e Ragusa fuori dagli schemi. Infine c'è Carmelo Ialacqua, che ha presentato la propria lista Città Futura, che però conta 16 candidati su 24 posti disponibili. Grazie. 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 Grazie.